Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al nuovo video di Mariano Romano, avete notato, sì ma certo, stasera c'è la grande partita del nostro grande Napoli, beh la partita si terrà stasera alle 20.45, contro il Sassuolo, beh ragazzi come abbiamo visto il Sassuolo con l'altra partita contro l'Inter ha perso 7-0, beh abbiamo una grande opportunità per battere il Sassuolo, perché come abbiamo visto quella partita, ma potrebbe essere che pure vinciamo 2-1 o 2-0, non può mai essere ragazzi, beh ragazzi dobbiamo sempre sperare sui Napoli e sulle sue mosse e dalla formazione, a me mi piacerebbe che un attacco andasse, come si chiama, come si chiama, come si chiama, kind of seat, mia fa come si chiama, kind of seat, un po' in porta dobbiamo mettere reina ragazzi ma straordinario i palati fa quel portiere lo vorrei abbracciare a reina è troppo forte ragazzi ragazzi dovremmo soltanto aspettare la partita per stasera ve la faccio vedere cosa farsi ragazzi ragazzi mettete un bel bel mi piace e iscrivetevi al mio canale ragazzi iscrivetevi iscrivetevi ragazzi